E noi diciamo subito, pronto? Buonasera, vediamo un pochettino chi è con noi, Luisa. Pronto? 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 Siamo pronti? Allora, Feliciano, tu che ci vuoi ascoltare dopo? Il prossimo brano è che hai fatto storia con tuo padre. Hai fatto storia con tuo padre? Sì, poi adesso vado con sua mamma. Perché fai sì cose, i genitori bisogna voler il bene. I genitori bisogna voler il bene. Sì, nel bene e nel male. In tutto e per tutto, perché voi sono sempre i genitori. E si amano, veramente, io non approfitto per mandare un bacione forte forte per mia mamma. Anche io voglio mandare un bacione alla mia mamma e a tutta la mia famiglia. Io ne approfitto e lo mando a tutte le mamme. Tutte le mamme del mondo e a tutti i papà. A mia mamma e anche a mio papà. Anche da parte mia, alla mamma e al papà di Feliciano. Anche da parte nostra. Noi diciamo subito, pronto? Buonasera. 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 Ciao, chi sei e da dove chiami? Raffaello, da Lello, da San Giovanni. Lello. Potrei parlare con Feliciano? Eccolo qua, vai. Pronto. Ciao, Feliciano. Buonasera. Ciao, dimmi. Come ti chiami? Lello. Lello. Ciao, scusa, Lello. Dimmi. Da dove chiami? Da San Giovanni. San Giovanni. Mi fai sentire una canzone di Patrizio. Ah, sì. Dopo vedo, a piacere, perché non so se ce l'ho in De Gia. Se ce l'ho, te la faccio ascoltare. Va bene. Va bene. E poi da Luisa cuore mi fa un bravo piacere. Un bravo piacere. Ok, ok. Va bene, Lello. Grazie mille, Lello. Va bene. Ciao, Lello. Ciao, Lello. Ciao, ciao. A tutta la famiglia. Ciao, ciao, ciao. Lasciamo il tuo amico Lello. Sì, ok. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.